In arrivo un provvedimento urgente del governo in materia di energia si tratterebbe di una norma che concede a TVN la possibilità di andare a regime e che allunga il limite oltre il 2025. Anche la Tecnomate, storica cooperativa che si occupa della gestione delle problematiche ambientali, ha problemi di carattere occupazionale, a causarle una guerra interna. Dopo tanti anni a Tarquinia, quest'anno alla fiera del mercato e delle macchine agricole, arriva Civitavecchia, aspra la polemica tra i due comuni. Una vergogna attacca il sindaco Giulivi. Un 25 aprile, molto partecipato a quello che a Civitavecchia ha voluto ricordare, il 77esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. Tanta gente ha assistito alle iniziative cittadine. Sono soldato della società a parlare al tecnico del Civitavecchia, Massimo Castagnari, nel post partita contro i Ladispori. Il suo futuro si deciderà a fine campionato. Buonasera, ben trovati. Si attendono novità importanti, particolarmente importanti a dire il vero, dal governo per il presente e il futuro della centrale di Torre Valdaliga Nord. Nel corso della settimana, infatti, dovrebbe essere varato un nuovo decreto che mira a far fronte ai problemi di approvvigionamento energetico conseguenti alla crisi con la Russia, che possono mettere a rischio la stessa economia italiana. Tra le possibili decisioni del governo, quelle di mandare le attuali centrali a pieno regime e di far slettare, dopo il 31 dicembre 2025, il termine per l'uscita definitiva dal carbone. Vediamo il servizio. Eravamo forse stati facili profeti nell'ipotizzare in un articolo del primo marzo scorso che di fronte alla carenza di energia conseguente alla guerra si sarebbe probabilmente andati oltre la data del 31 dicembre 2025 come termine per il mantenimento in esercizio delle centrali a carbone e quindi dell'impianto di Torre Valdaliga Nord. È infatti atteso in settimana un nuovo provvedimento urgente del governo in materia di energia che inevitabilmente dovrà occuparsi anche di Civitavecchia. Stando alle indiscrezioni che provengono dagli ambienti di Palazzo Chigi è infatti allo studio una norma che al fine di evitare una grave crisi energetica che creerebbe drammatici problemi alle imprese e alle famiglie interverrà sulla tempistica della cosiddetta carbon exit. Non solo, nello stesso provvedimento oltre ad accelerare i tempi per la realizzazione di impianti eolici e solari si darà anche autorizzazione ai gestori per produrre maggiore energia con le centrali a carbone. Nel caso di Civitavecchia Enel sarebbe autorizzata a far andare a pieno ritmo l'impianto di Torre Valdaliga Nord che attualmente sta funzionando ininterruntamente ma a scartamento ridotto. L'unico problema sarebbe rappresentato dalla necessità di importare più carbone ma come abbiamo già visto Enel si è adeguata per tempo chiudendo i rapporti con la Russia e andando ad acquistare la materia prima in Indonesia e Colombia. Probabilmente anche l'Australia diventerà uno dei paesi dai quali importare carbone per la produzione di energia in Italia. Di fronte alle novità in arrivo soprattutto se confermate nella sostanza si evidenzia un cambio di scenario che potrebbe diventare interessante per Civitavecchia. Una centrale a carbone a pieno regime significherà infatti la piena ripresa di tutta una serie di interventi di manutenzione all'impianto che visto l'attuale parziale funzionamento venivano programmati con tempistiche diverse. Il fatto che Torre Nord diventi uno degli impianti energetici praticamente vitali per l'economia italiana darà poi alla città un enorme potere contrattuale che potrebbe essere sfruttato per rivendicare provvedimenti di ampio respiro che diano un chiaro indirizzo per un futuro migliore sul piano economico e occupazionale. In ultimo lo slittamento a dopo il 2025 dello stop all'uso del carbone consentirebbe di avere maggior tempo a disposizione per meglio definire il futuro dell'area che occupa attualmente l'impianto. Torre Nord non può certo diventare l'ennesima situazione che vede mortificati Civitavecchia e il suo tessuto imprenditoriale e occupazionale. E da oggi l'organico della centrale Torre Valdaliga Nord è cresciuto di 20 unità. Per far fronte all'incremento dell'attività dell'impianto la spa energetica ha fatto arrivare a Civitavecchia 20 dipendenti della centrale di La Spezia che nel frattempo è stata invece dimessa. Erano state le stesse organizzazioni sindacali a fronte del mutato scenario produttivo a sollecitare un incremento degli organici a Civitavecchia dove inizialmente si era invece prospettata una progressiva diminuzione degli addetti. Non è neanche escluso che in considerazione della ventilata ipotesi di un ulteriore incremento della produzione a Torre Nord possano arrivare ulteriori lavoratori sempre provenienti della ex centrale Ligure. La notizia è rilanciata al nostro convegno Progettiamo il futuro dal Vice Presidente della Regione Lazio Daniele Leodori relativa ad un intervento regionale per circa 50 milioni di euro nel nostro porto in direzione della realizzazione della Darsena Mare Nostrum rappresenta un intervento di estrema importanza. Lo dichiara il Segretario del Partito Democratico Piero Alessi. La dimensione dell'impegno finanziario che di circa un quarto del totale necessario riprende Alessi a completare l'opera segna un passo decisivo verso la direzione da noi negli anni auspicata e sostenuta con determinazione. Siamo sulla strada giusta e che il lavoro che l'autorità portuale ha svolto inizia a dare importanti risultati ma ancora molto si deve fare. Abbiamo urgenza di portare a compimento e anche da questo punto di vista segnaliamo un impegno serio della Regione una rete infrastrutturale efficiente. Abbiamo tra le altre cose necessità di collegamenti veloci con l'Adriatico con Roma e con le grandi vie di comunicazione con il Nord Europa. Dopo Port Mobility e dopo le situazioni a rischio in altre società del settore si apre un nuovo fronte di possibile rischio occupazionale all'interno del porto. Questa volta però non c'entrano la pandemia e la crisi dei traffici quanto le diatribe interne alla cooperativa Tecnomate che occupa nel settore dell'antinquinamento del mare. Due lavoratori già licenziati ed altri rischiano di perdere il posto di lavoro nei prossimi giorni se non nelle prossime ore addirittura. Ma per saperne di più vediamo anche in questo caso il nostro servizio. Non c'è pace nel porto di Civitavecchia. Anche la Tecnomate storica cooperativa che si occupa della gestione delle problematiche ambientali all'interno del porto si aggiunge alla lista delle imprese con problemi di carattere occupazionale. Ma mentre finora si era di fronte alle conseguenze della carenza dei traffici commerciali e della pandemia nel caso della Tecnomate la messa in discussione di posti di lavoro arriva a seguito di una grave conflittualità interna. La compagine sociale si è infatti divisa in due opposti schieramenti. Da un lato i soci lavoratori di minoranza e dall'altro gli attuali amministratori sostenuti da alcuni soci che rivendicano invece la bontà delle azioni poste in essere. Stando alle voci che circolano in ambito portuale sembrerebbe che il livello di scontro dentro la cooperativa sia ormai giunto ad un punto di non ritorno con le diatribe interne finite all'attenzione della giustizia ordinaria. Motivo del contendere una serie di provvedimenti disciplinari assunti dagli attuali amministratori nei confronti di lavoratori soci di minoranza che chiedevano maggiore chiarezza e partecipazione rispetto alle scelte e alla gestione della società. Al momento risultano licenziati un socio e un dipendente che a quanto sembra si sono rivolti direttamente al tribunale ma sarebbero in arrivo altre iniziative disciplinari che riguarderebbero ancora una volta i soci dissenzienti. Provvedimenti che qualora confermati avrebbero conseguenze terribili per i licenziati e le loro famiglie che rischierebbero così di trovarsi sull'astrico peraltro in un periodo come quello attuale di piena crisi economica. Insomma una situazione complicata e potenzialmente esplosiva che rischia di avere conseguenze negative sul fronte occupazionale all'interno del porto ingenerando una nuova crisi aziendale considerando anche che ci sarebbe un documento a firma del presidente della cooperativa nel quale si fa riferimento ad una società in grave difficoltà economica. In un quando simile diventa fondamentale ancora una volta un intervento delle istituzioni nonché delle forze politiche e delle organizzazioni sindacali affinché venga evitato un ennesimo bagno di sangue occupazionale che avrebbe come diretta conseguenza quella di portare intere famiglie sull'astrico. Veniamo alla cronaca incidente nella serata di ieri a Via Isolza alle 22 circa i vigili del fuoco sono intervenuti per prestare soccorso ad una persona che aveva perso il controllo del proprio mezzo un'auto di media cilindrata per caos è tuttora in corso di accertamento la vettura è impattata nelle immediate vicinanze del distributore di benzina gli uomini della Bonifazio a corsi tempestivamente hanno liberato dalle lamiere la donna che era alla guida subito consegnata alle cure del personale sanitario del 118 è stata trasportata all'ospedale San Paolo sul posto per i rilevamenti del caso anche carabinieri e polizia. Cambiamo decisamente argomento dopo tanti anni in cui si era svolta a Tarquinia quest'anno la fiera del mercato e delle macchine agricole sarà organizzata a Civitavecchia l'evento a cura dell'associazione Pro Tarquinia è stato presentato nel corso di una conferenza stampa all'Aula Calamata del Comune saranno oltre 200 gli stand che coloreranno la marina i prossimi 30 aprile e primo maggio in una settimana di iniziative considerando anche Santa Fermina grande la soddisfazione per il sindaco Ernesto Tedesco e l'assessore al commercio Dimitri Vitali che hanno parlato di grande opportunità per Civitavecchia a causa del grande interesse che la fiera suscita ascoltiamo le nostre interviste Paolo Giorgi torna alla mostra del mercato delle macchine rigole quest'anno si svolgerà a Civitavecchia magari qualche scelta che si non sa come si svolge questa manifestazione spieghiamo come avverrà proprio alla marina Sì l'area coinvolta è quella della della mostra della festa del Santo Padrono leggermente più estesa arrivando fino a una piccola parte del porto quest'anno gli spazi che abbiamo potuto individuare sono stati quelli come ho detto precedentemente proprio per esigenze organizzative saremo costretti ad ospitare macchine più piccole di quelle che avremmo potuto mettere non abbiamo avuto il tempo e la logistica sufficiente per poter analizzare e stipulare come hanno detto polizze accessorie per poter ospitare macchine di questo tipo con il prossimo futuro spero di poter individuare quelle aree adatte a poter ricevere o mettere in atto quei presidi che possano garantire di non causare nessun tipo di danno quanti saranno gli stand gli stand dovrebbero essere circa 200 tenendo presente che gli stand dell'agricoltura saranno molto più grandi rispetto agli stand normali gli spazi riservati all'agricoltura e alle macchine leggermente più ingombranti diciamo saranno più estesi Dimitri Vitalia arriva alla mostra del mercato delle macchine agricole a Civitavecchia un evento che ha definito storico durante la conferenza stampa si è un evento storico perché porterà centinaia di migliaia di visitatori nella nostra città ne beneficerà tutto il commercio cittadino già mi danno sold out negli alberghi e nelle strutture ricettive di questa di questa cosa prenotazioni sui ristoranti insomma è qualcosa di molto grande chiaramente è stata una cosa fulmine a noi abbiamo ci si è presentata questa opportunità non ce la siamo fatta scappare ringrazio gli uffici in particolare il funzionario Bruna Luce del commercio che è veramente una macchina da guerra e ha insieme insomma ai suoi pochi dipendenti che ci sono ha prodotto tutti gli atti per consentire questa grande manifestazione ringrazio il sindaco che ha creduto da subito insieme a me a questo grande evento ringrazio l'opportunità che comunque l'associazione organizzatrice della manifestazione ci ha dato e quindi chiaramente è una sorta di ripartenza vera in questa città che purtroppo ne ha bisogno poi fatta l'idea siamo stati anche un po' tra virgolette fortunati perché noi il 28 di aprile c'è diciamo la fiera di Santa Fermina che sta nella stessa location praticamente quindi è una prosecuzione di un ponte di festeggiamenti nella nostra città e lo spostamento della fiera del mercato e delle macchine agricole da Tarquinia a Civitavecchia anche se sollecitato dall'associazione Pro Tarquinia non è stato assolutamente gradito dal sindaco della città etrusca Alessandro Giulivi che ha infatti preannunciato che si rivolgerà a tutte le autorità competenti compresa la magistratura ordinaria affinché la manifestazione non abbia luogo a Civitavecchia il 30 aprile e il primo maggio ha poi attaccato frontalmente la giunta tedesco accusandola di derubare la storia della sua città e parlando di vergogna sono sicura ha aggiunto il sindaco di Tarquinia che sia i consiglieri che i cittadini di Civitavecchia si ribelleranno a questo scempio perché Civitavecchia deve tornare all'onore delle cronache per la grande città che è senza il bisogno di saccheggiare il territorio accogliamo con soddisfazione la notizia dello spostamento da Tarquinia alla Marina della fiera delle macchine agricole del mercato e quanto dichiara in una nota il presidente di Confcommercio Civitavecchia Graziano Luciani su questo risultato prosegue Luciani va dato atto all'assessore al commercio Dimitri Vitali di essersi speso affinché questo importante evento che porterà nella nostra città oltre 260.000 persone con le relative ricadute economiche si potesse realizzare ora tocca a noi commercianti fare la nostra parte invito tutti quindi tutto il settore a restare aperto o a prolungare l'orario di apertura dei negozi il 30 aprile il primo maggio perché questa fiera se ben sfruttata può rappresentare per il comparto intero una boccata d'ossigeno in un momento di grande difficoltà economica cambiamo ancora una volta argomento un 25 aprile molto partecipato quello che a Civitavecchia ha voluto ricordare il 77esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo tanta gente ha infatti assistito in particolare alla cerimonia che si è svolta al piazzale degli eroi alla presenza delle autorità civili militari e religiosi della città oltre che dei rappresentanti dell'AMPI e delle forze politiche e sociali riviviamo alcuni momenti della cerimonia nel nostro servizio vediamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti una Pasqua diversa ma l'insegna di fede accoglienza e senso della comunità è quella che hanno passato i rifugiati dall'Ucraina ospitati in città le mamme e i bambini hanno dapprima potuto partecipare alla celebrazione della Pasqua ortodossa grazie all'invito delle autorità religiose nel complesso di Borgata Aurelia è seguito il pranzo pasquale all'hotel dove sono alloggiati grazie al trasferimento su Pullman messo a disposizione da CSP nell'occasione si è anche festeggiato il compleanno di una bimba di tre anni i volontari della protezione civile hanno donato un mazzetto di fiori a tutte le donne e l'assessore Cinzia Napoli ha portato a tutti i saluti dell'amministrazione comunale è in corso presso la protezione civile una raccolta di scarpe e vestiti leggeri in vista dell'arrivo della bella stagione soltanto capi nuovi taglie da S a XL e scarpe dal 23 a 40 per informazioni telefonare al numero 0766 19422 grande partecipazione nel primo pomeriggio di oggi ai funerali di Antonio Molinari Presidente di Molinari Italia Spa che si è spento sabato mattina all'età di 81 anni in tanti dal mondo dell'imprenditoria agli amici passando per dipendenti e familiari hanno voluto partecipare all'ultimo saluto a Tonino come era conosciuto da tutti fin da giovani in azienda insieme al padre Angelo e ai fratelli Mafalda e Marcello ne ha preso poi le redini portando la compassione e dedizione grazie al suo forte intuito imprenditoriale e alla sua visione innovativa e fuori dagli schemi al successo di oggi e lanciandola a livello internazionale tornando ai funerali vediamo alcuni passaggi il rapporto tra me e mio nome era un rapporto basato nella sensibilità dell'estima di Cirocano un rapporto profondo e non apparisciente di silenzione di chiesa mi rivedo in lui interna cosa e sono certo che per gli stessi lui si rivedesse in me da gli altri era un attento osservatore del mondo mostro dall'amore della sua famiglia dal rispetto dell'unità mi raccomando rosa asciutta a tutti i paesi di Cirocone è uno dei consigli che definiva la mia personalità cercavo di fare come mi dicevo papà sei stato uno stimolo continuo per i miei figli per quanti ti hanno conosciuto ci hai spionato a conoscere tutti i modi uscire dall'istietto guardare oltre il mess la spagna la città la mamma andava in funcchiera per la frase che mi aveva detto la mamma spesso mi fai aggabbiare e la parola non mi fai aggabbiare ma con te non ci siamo a chiamare amici unico quelli della scoperta che ho in ufficio ma lì le ultime auto partite 7 a 11 andiamo a casa quelli del mess con carriameli e i miei figli del Pasquale in Spagna e poi voglio trovare un incredibile cammino professionale dove spesso hanno amicizia una tavola data la stretta di mano vogliono più di un piano marketing con gli un po' tra passi pensare al tuo grande amico Ionio e vai a cui guardami sempre amici fratelli amici miei cambiamo decisamente argomento tra i tanti appuntamenti che tornano per la festa di Santa Fermina c'è anche quello che riguarda la mostra di pittura curata dall'Associazione Artistica Traiano si tiene presso il foyer della Cittadella della Musica l'esposizione sarà visibile fino a martedì dalle 10 alle 12.30 dalle 16.30 alle 19.30 soddisfazione per il ritorno della mostra è stato espresso dalla Presidente del Comitato Santa Fermina Ombretta del Monte e dal Sindaco Ernesto Tedesco che sentiamo in queste interviste questa è una mostra inserita da tanti anni nel programma festeggiamenti Santa Fermina a cura dell'Associazione Artistica Traiano e gli artisti sono tutti autodidatta ma hanno veramente insomma un talento notevole e gli artisti che posso a mio avviso segnalare come anche da vincitori di concorso Roberto Villotti che si è giudicata anche la copertina nel libro Tra Civita Vecchia tra Pittura e Parole e poi insomma ce ne sono tanti altri a partire anche dalla fondatrice Laura Rietti Paola Marchili Paola Bisozzi adesso non vorrei insomma ecco togliere il merito agli altri però veramente insomma da come si vede le opere sono tutte degne di nota e è una mostra dedicata alla Santa Patrona non tematica ma dedicata infatti su ispirazione anche del mare infatti ci sono molti soggetti marini e noi siamo soddisfatti quest'anno più che altro che ripartiamo perché è veramente una ripartenza non solamente organizzativa ma una ripartenza della vita e la Santa Patrona poi la giornata clou è quella del 28 che appunto non subirà cambiamenti rispetto al 2019 tranne una restrizione per quello che riguarda la processione a mare beh finalmente dopo due anni di buio se possiamo utilizzare questa espressione nei quali però io voglio riconoscere ancora una volta il merito di Ombretta del Monte che è riuscito a portare avanti ancora una volta l'organizzazione di questo importante appuntamento che sono le festività che riguarda le festività della Santa Patrona e lo ha fatto con il solito entusiasmo con il cuore con la grande professionalità che la contraddistingue tra l'altro c'è anche un suo quadro bellissimo a conferma delle sue capacità artistiche e ci avviciniamo a questa data del 28 che è una data importante per la nostra città questa mostra si va a inserire perfettamente nel quadro dei festeggiamenti e credo che sia veramente di buon auspicio per riprendere con la normalità nella quale crediamo fermamente e che evidentemente dovrà speriamo contraddistinguere la nostra vita di qui ai prossimi anni come nasce questa voglia di dipingere ecco abbastanza straordinaria che porta poi anche tante tante opere tanti quadri ma la voglia mi viene da la porto da bambino praticamente però non è molto che dipingo saranno 20 25 anni rispetto all'età che ho e lo faccio per passione sono un'autodidatta però è una passione forte che mi porta a fare qualsiasi cosa soprattutto mi fa piacere svolgere qualche piccola cosa per la mia città da Roberto Villotti è stata citata l'associazione allora un'associazione che porta avanti un lavoro impegnativo e che consente a tante persone di dedicarsi a un'attività che non è solo un hobby ma diventa qualcosa di più importante più impegnativo certo soprattutto per la città che noi diciamo con tutte queste manifestazioni rappresentando l'arte tutti i nostri soci volentieri per dire si riuniscono tutti autodidatta per poter fare queste bellissime manifestazioni ed apriamo ora la pagina sportiva con il calcio sconfitta nell'ultima gara casalinga per il Civita Vecchia i Nerazzurri hanno ceduto per 2-1 alla Dispoli nel derby del Tirreno giocato al Tamagnini gara che ha visto i Civita Vecchiesi creare tanto nel primo tempo in cui però a passare in vantaggio sono stati gli ospiti con Daguanno a cui ha risposto Pippi su calcio di rigore nella ripresa dopo pochi secondi la Dispoli di nuovo avanti con Perocchi e Civita Vecchia che a parte un paio di conclusioni non è riuscito a perforare l'ottima difesa rosso-blu a tenere banco a fine partita il futuro del tecnico Massimo Costagnani che passa la palla alla società sentiamolo in questa intervista Massimo Castagnani è arrivata questa sconfitta con la Dispoli nell'ultima gara a Casalinga che cosa è mancato al Civita Vecchia? Io penso che non sia mancato niente è normale che quando stai nella parte finale del campionato che veramente ormai ci ha blindato il quattro posto è normale che tanti stimoli possano andare via però io devo complimentarmi con la squadra perché veramente ha fatto anche oggi una grossa prestazione creiamo tanto anche perché la partita di oggi è un po' la figlia di tante partite di questa stagione abbiamo preso due tiri in porta due gol e nonostante tutto abbiamo creato sempre tanto però lo spirito è sempre quello giusto i ragazzi sono stati formidabili a cercare fino alla fine di non lasciare il proprio pubblico e questa stagione con una sconfitta ma vanno solo elogiati per il percorso che hanno fatto quest'anno io veramente mi sento di dire di ringraziarli proprio pubblicamente perché un gruppo che in tutte le difficoltà ha dato sempre il massimo anche oggi stavamo un po' con le pezze ma veramente abbiamo fatto un primo tempo importante peccato per quale distrazione però non si può prendere il secondo gol dopo 16 secondi del secondo tempo però si lascia da parte questa considerazione però il gruppo ha dimostrato di avere un gioco di avere una testa di aver dato tutto fino alla fine e io penso che veramente questi ragazzi devono essere proprio uno a uno elogiati per quello che hanno fatto in questa stagione adesso manca una sola partita poi si comincerà a pensare alla prossima stagione quale sarà il futuro di Massimo Castagnari io dico che sono un soldato sono un soldato mi è stata la missione la porto fino al termine penso dal punto di vista personale insieme al mio staff di essere andati oltre come ha fatto la squadra in tutto quello che praticamente è stato un anno veramente importante in un girone importante con una coppa un trofeo che nessuno ci può togliere come ho detto squadra e staff siamo andati oltre a tutto quello che era quello che potevamo dare abbiamo tolto tanto alle famiglie però è giusto è giusto ecco fino all'ultimo elogiare questa squadra ringraziare veramente le persone che sono state con me che hanno collaborato e alla fine poi la palla passa alla società e tirerà le somme di questa stagione è stato un weekend poco felice sul piano sportivo per Civitavecchia quello appena trascorso nel campionato di pallanuoto maschile serie a due la NC pur disputando un ottimo match ha ceduto per 11 a 7 a Catania contro la Muri Antichi una sconfitta dolorosissima per il team rosso celeste che adesso è ultimo in classifica in coabitazione con l'acqua chiara nel campionato di serie B2 di pallavolo femminile la margutta già retrocessa ha purtroppo salutato con una sconfitta il pubblico del palasport in Soler Tamagnini le ragazze allenate da Pietro Grechi hanno ceduto per 0 a 3 alla capolista Perugia male e addio playoff anche per la Stemmer 90 nel campionato di serie C Gold di basket maschile al pala Ricucci i rossoneri in formazione rimaneggiata a causa di tante assenze senza il tecnico De Maria in panchina a causa Covid hanno nettamente ceduto al frascati 85 a 64 rinviando così al prossimo anno ogni velleità di promozione in serie B è andata male anche nel campionato maschile di C1 di calcio a 5 con la futsal sconfitta per 6 a 3 dalla spessa Poggio Fidoni una battuta d'arresto che rischia di stromettere nei razzurri dal playoff vediamo ora il canottaggio dopo gli anni di fermo per il Covid si è svolto nel porto storico il tradizionale palio marinaro dei rioni storici organizzato dall'associazione Mare Nostrum 2000 presiduta da Sandro Calderai alla manifestazione hanno partecipato tante autorità civili militari e religiose la mattinata preso il via all'interno del forte Michelangelo dove si è svolta la benedizione degli equipaggi e delle attrezzature da parte di Don Cono con le note della banda Ponchielli diretta dal maestro Feoli il palio si è aperto con le sirene della prestigiosa Diciotti che dopo aver salvato tante vite è ormeggiata in questi giorni al porto per quanto riguarda le regate nella categoria Junior vittoria dell'equipaggio del Calamatta 1 con il centro storico nel senior femminile primo posto delle nuotatrici Civitavecchia con i colori del centro storico nel senior maschile successo del team gli storici con San Gordiano al termine di queste regate si è svolta una gara ad equipaggi in vista che ha visto numerosi mettersi in gioco tra gli applausi e il sostegno di tutti tra cui il consigliere Matteo Iacomelli vediamo la ginnastica artistica missione compiuta per l'Asgine nel campionato di serie A1 nella terza tappa della massima divisione che ha visto come cornice il pala Vesuvio di Napoli la formazione allenata da Camilla Ugolini e Marco Massara ha centrato un altro secondo posto il terzo nelle tre manche della prima fase sempre dietro all'inarrivabile Brixia un risultato che consente senza nemmeno fare dei calcoli a Cotroneo e compagni di agguantare il secondo posto anche nella classifica generale e che assume ancora più significato per i problemi avuti negli ultimi giorni dalla capitana questo significa che l'Asgine sarà testa di serie nelle semifinali della Final Six quindi non avrà di fronte la Brixia con questa notizia termina qui questa edizione al TRC Giornale della Sera ma prima di salutarvi come sempre vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook Youtube Instagram oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata e come sempre anche con i nostri programmi a risentirci grazie per averci seguito